Occhiali di Elisa, Casale Cortecerro, gruppo Vega Occhiali, sportivamente siamo pronti con tanti ospiti, parleremo dell'Himalayan Trail e di una bellissima manifestazione dedicata all'arrampicata che si è tenuta in quella di Vogogna Domenica, con Paolo Ottone, con Giulio Ornati parleremo della corsa in montagna, Paolo una prima stagione, una prima edizione straordinaria. Sì, direi di sì, è stata una prima edizione di assoluto livello, abbiamo avuto quasi 500 partecipanti al Via invece di 300 che ci aspettavamo e quindi assolutamente una prima edizione coi fuochi. Giulio invece tu l'hai vinta la 60 km, quali le sensazioni che hai provato lo scorso 29 luglio? Chiaramente sensazioni di grande gioia, emozioni, poi con la mia famiglia all'arrivo quindi chiaramente sempre bei momenti, la gara è andata veramente alla grande, tutti felici, partecipanti e quindi non si poteva chiedere di meglio per questa prima edizione. Perfetto, così come non potevano chiedere di meglio, un gruppo di amici di Vogogna che hanno organizzato l'arrampicata in uno dei borghi più belli del VCO, Davide Barone, è stata anche qui un'edizione scoppiettante con più di 100 iscritti. Hanno partecipato in molti ed è stato bello poter portare l'arrampicata alla portata di tutti in un luogo magnifico. Tante immagini, tante parole, tanti commenti e poi anche una rivisitazione della società Genzianella, quindi non possiamo fare altro che aspettarvi con Sportivamente.